Questo mese, la rivista Pesca in Apnea ci presenta in apertura un'intervista al campione Sardo Rocaforte, curato da Emanuele Tara. Seguono due interessanti approfondimenti sulla pesca grossa al tonno in Mediterraneo, e sulla tecnica di tiro alle grosse prede. A pagina 38 trova ampio spazio un bell'articolo sulla pesca della cernia. Classica preda estiva. Alberto Martignani ci racconta a pagina 24 un itinerario molto utile riguardo alla zona. Attorno alla città di Piombino. Inchiusura un articolo sulla storia dell'acquascutera cura di Michele Rubini. Molto interessante l'articolo di Gerardo Zei sulla scelta della zavorra corretta. Alla prossima uscita e buon mare a tutti dal Pescatore in Apnea.